Commerciavano cofani funebri di importazione cinese privi del marchio della ditta costruttrice e non in regola con la regolamentazione vigente della polizia mortuaria presentando dichiarazioni doganali mendaci fruendo così dell'essenzione dei dazi doganali ed indicando un valore unitario della merce in misura nettamente inferiore a quello reale ottenendo così un ulteriore vantaggio d'imposta in relazione al pagamento dell'iva dovuta all'atto dell'importazione. Nella rete delle fiamme già le dichieti sono finite dieci persone italiani e stranieri segnalate all'autorità giudiziaria in stato di libertà e che devono rispondere a vario titolo dei reati di contrabbando intraispettivo evasione fiscale contraffazione di marchi violazione degli obblighi di custodia. L'indagine è partita dalla denuncia di furto di alcune casse già lo scorso luglio la guardia di finanza di Chieti sottopose a sequestro amministrativo 1.285 casse di illecita commercializzazione in un deposito di Vacri nel Chietino. Altri depositi sono stati scoperti a Francavilla al Mare Casa Canditella sempre in provincia di Chieti e nel Pescarese a Popoli quello portato a termine dalla guardia di finanza teatina e il primo sequestro di questo genere nel territorio nazionale. Parliamo di un'organizzazione composta da italiani e stranieri. Chi era il vertice? Un vero e proprio vertice diciamo non diciamo si passava dal cinese che era quello che era il diciamo che dalla Cina faceva sì che avvenisse questa importazione tramite le dogane di Napoli e di Ancona e l'accordo era con cittadini poi italiani pugliesi in questo caso soprattutto pugliesi a operanti già radicati sul territorio e anche ai rumeni. In chiesta conclusa o potranno essersi ulteriori sviluppi? Potrebbero essersi ulteriori sviluppi visto che poi abbiamo anche appurato che in uno di questi depositi dove erano costituiti appunto in giudiziale custodia hanno simulato un furto di parte di questi cofini ne abbiamo ritrovati come 66 su 385 a fronte dei 1200 inizialmente sequestrati quindi qualche altro appendice potrebbe esserci.